Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione di geografia. Continuiamo il nostro giro d'Italia. Vi siete iscritti al canale? Se non l'avete fatto, iscrivetevi subito e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati. Oggi visiteremo la Basilicata, l'antica Lucania. La Basilicata è una regione dell'Italia meridionale e si affaccia su due mari. A ovest sul mar Tirreno e a est sul Mar Ionio. Confina a ovest con la Campania, a est con la Puglia, a sud con la Calabria. Si estende per 10.073 km2 e ha una densità di 55 abitanti per km2. Il capoluogo è Potenza. Osserviamo insieme la suddivisione del territorio. Per il 47% abbiamo la montagna, per il 45% la collina e solo l'8% del territorio è pianeggiante. Le province della Basilicata sono due, Matera e Potenza. Il territorio presenta un'unica grande pianura, la Piana di Metapunto che si affaccia sul Mar Ionio. Le montagne fanno parte dell'Appennino Lucano. Le più alte sono il Monte Pollino, il Monte Papa nel massiccio del Sirino. Le colline si trovano nella zona al confine con la Puglia e, in genere, sono franose e prive di vegetazione, come possiamo vedere nell'immagine più a destra. I fiumi della Basilicata sono in genere asciutti durante l'estate, quindi sono a carattere torrentizio. I principali sono il Bradano, il Basento, l'Agri e il Sinni. Ci sono diversi laghi artificiali. Molto caratteristici sono i laghi di Monticchio, di origine vulcanica. Le coste del litorale Ionico sono basse e sabbiose. Quelle del litorale Tirrenico, nel Golfo di Policastro, sono invece alte e rocciose. Il capoluogo di regione più alto d'Italia è Potenza, ben 819 metri sul livello del mare. Il suo centro storico ha origini molto antiche ed è stato più volte ricostruito dopo numerosi terremoti che l'hanno distrutto, l'ultimo nel 1980. I quartieri più recenti sorgono più in basso nella Valle del Basento e sono collegati al centro storico da un complesso sistema di scale mobili. L'altro capoluogo è Matera. Il nucleo originario di Matera si è sviluppato a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia in due anfiteatri naturali, il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Dal 1993 i sassi di Matera sono patrimonio mondiale UNESCO e rappresentano uno straordinario esempio di adattamento della civiltà umana all'ambiente e al contesto naturale. Nell'immagine più a sinistra possiamo vedere un suggestivo scorcio del panorama della città. Per quanto riguarda le attività economiche, dobbiamo dire che l'economia della Basilicata si fonda prevalentemente sull'agricoltura, che viene spesso praticata con tecniche tradizionali. Nella piana di Metaponto si coltivano frutta, ortaggi, tabacco, barbabietole, oltre ad olivo e vite. Nelle altre zone predominano cereali, in particolare il grano duro e le patate. L'allevamento si sta sviluppando negli ultimi anni. Tra i bovini la razza podolica dalle corna a forma di lira è quella più caratteristica della ragione. Ne vediamo un esemplare nell'immagine di destra. L'industria non è particolarmente sviluppata. Nella zona di Melfi c'è l'industria automobilistica. In regione sono presenti poi l'industria edile e quella alimentare. Lo sfruttamento del sottosuolo in Val d'Agri, con l'estrazione del petrolio e del gas naturale, è in forte sviluppo. È il principale giacimento europeo di idrocarburi sulla terraferma. Il turismo, specie nella zona di Matera e quello balneare lungo le coste, negli ultimi anni è in via di sviluppo. Dal 2016, la Basilicata è la prima regione italiana nella produzione di fragole. La coltivazione di questi frutti avviene con metodi attenti all'ambiente e di elevata sostenibilità. Le fragole si coltivano nella piana di Metaponto, in particolare nella zona di Policoro, sede di un annuale sagra. Per approfondire, ricerca le caratteristiche della Candonga, la varietà di fragole della Basilicata, e realizza un breve audio per promuoverne il consumo. Il sito archeologico di Metaponto è molto importante. Nella zona di Metaponto, infatti, a poca distanza dalla costa ionica, è presente un vasto sito archeologico, i cui resti testimoniano l'importanza che ebbe questo luogo nel periodo greco, tra il VII e il III secolo a.C. Per approfondire, svolge una ricerca sui resti ritrovati nell'area di Metaponto e realizza una presentazione digitale dell'area archeologica. Per quanto riguarda l'Agenda 2030, ci soffermiamo sull'obiettivo 15, Vita sulla Terra. In Basilicata si trovano diverse aree naturali protette. Ci sono due parchi nazionali, il Parco del Pollino, al confine con la Calabria, e il Parco dell'Appennino Lucano-Valdagri-Lago Negrese. Il Parco del Pollino è l'area protetta più estesa d'Italia. Tra le province di Potenza e Matera si trova un altro parco regionale molto caratteristico, il parco di Gallipoli cognato delle piccole dolomiti lucane. Anche qui puoi approfondire, ricercando informazioni e immagini del territorio e della natura di questo parco e realizzando con esse una galleria fotografica o un breve video. Ora tocca a te. Devi individuare l'intruso. Enogastronomia della Basilicata. Aglianico del Vulture. Salsiccia Lucanica. Pasta alla Norma. O caciocavallo podolico. Quali? Fra queste specialità non appartiene all'enogastronomia della Basilicata? Hai risposto? Certo, la pasta alla Norma. Città della Basilicata. Tropea, Policoro, Pisticci, Lago Negro. Quale città è intrusa? Tropea, certamente. Arrivederci, non dimenticare il like. Ti aspetto alla prossima lezione per continuare insieme il Giro d'Italia. Arrivederci.